buongiorno a tutti proseguiamo con le pillole di bait guru dedicate alle definizioni della boily oggi parliamo della boily da pastura che praticamente è un'esca in grado di interessare il pesce da un punto di vista nutrizionale e di condizionarlo e spingerlo alla ricerca di questa nuova fonte di nutrimento si tratta quindi di un'esca particolarmente adatta per la pasturazione preventiva oppure per quelle pescate che durano molti giorni la classica settimana dieci giorni di vacanza in riva al lago dove se intercetto i branchi di carpe ho tutto l'interesse che l'esca sia nutrizionalmente interessante affinché le carpe stazionino nell'area dove sto pescando finché io continuo a dar loro da mangiare aumentando di conseguenza le mie possibilità di catturarne molte in successione per definizione l'esca nutritiva è quella curata da un punto di vista del mix con cui è realizzata è nel mix cioè nell'insieme di farine che si racchiude la componente nutritiva principale dell'esca sebbene io possa intervenire anche con dei liquid food non vi è paragone fra l'apporto in termini di nutrienti che io riesco a ottenere inserendo un solido rispetto ad un liquido se io prendo i valori nutrizionali del predigested fish meal in polvere in farina e li confronto con i valori nutrizionali del predigested liquid quindi il liquid food a base di farina di pesce predigerita è facile verificare come la forma solida la farina la polvere sia quasi il doppio in termini nutritivi rispetto alla forma liquida perché nella forma liquida c'è una buona percentuale di acqua che non apporta alcun tipo di nutrimento mentre la forma solida è un concentrato altamente nutritivo quindi è fondamentale la gestione mirata degli ingredienti solidi del mix per costruire un'esca nutritiva questo significa che la parte liquida è poco importante sì di fatto la parte liquida è poco importante perché io da un'esca nutritiva voglio che grazie alla trazione secondaria cioè al gusto e a ciò che viene apportato in termini nutritivi il pesce la ricerchi con scopi squisitamente alimentari non perché attratto o ingannato come nella chimica dell'esca veloce di cui abbiamo parlato nella puntata precedente quindi una buona esca nutritiva fatta con un ottimo mix potrebbe essere rullata anche solo con uova e olio essenziale per dare comunque un'impronta di gusto caratteristica che mi possa distinguere dagli altri pescatori che buttano palline a loro volta sullo spot e basta tutto qua al limite un apporto migliorativo in termini nutritivi durante il periodo estivo potrebbe essere sfruttato grazie a un liquido inserendo l'olio olio di pesce alcuni oli di origine vegetale sono in grado di apportare all'esca dei grassi che ne alzano in maniera interessante il potenziale calorico rendendola di fatto più interessante da un punto di vista nutritivo nutrizionale ma per il resto ribadisco il concetto che una buona esca nutritiva è impostata partendo dal mix di base costruire un mix di base nutritivo non è complicato perché di fatto rispetto ai banali ingredienti del 50 50 del boiling mix o di un beer food leggero basta introdurre uno due farine in più di origini animali una magari molto nutriente come possono essere tutte le farine lt di pesce da introdurre quindi in una buona concentrazione diciamo almeno 15 20 per cento del mix finale e una seconda nutritiva con una forte impronta di gusto che potrebbe essere a sua volta di origine animale tipo le farine di organi interni oppure farine di crostacei farine di molluschi o anche di origine vegetale tipo tutte le farine natti che quindi apportano il buon gusto della nocciolina unito ai grassi che questo tipo di semi contengono l'abbinata farina lt di pesce e ingredienti nati arachide mandorla pinoli e tutte le varianti del caso ci permette di creare un'esca nutritiva molto interessante e già di per sé caratteristica anche come gusto distinguendoci dalla maggior parte delle esche preparate dai nostri competitori